Il problema, non li fai partire, visto e considerato che queste persone che stanno al governo, fai un blocco navale davanti alle coste libiche, visto e considerato che questo governo continua a dire di avere un'importanza a livello internazionale, benissimo, andate all'ONU o andate in Europa e chiedete un blocco navale internazionale davanti alle coste libiche. Primo, e mentre per quelli che sono già nel nostro paese, rimpatri di massa, non parole, rimpatri di massa, visto e considerato che questa coalizione è qui a governare o a far finta di governare da anni.